La segnalazione di quelle da tenere in seria considerazione, Pierino Alessio, presidente del comprensorio alpino numero 7, ci ha riferito di avvistamenti di lupi sul primo tornante dei Grappa, in Valle Santa Felicita, a poche decine di metri dalle prime case di Pove. Intanto queste sono le ultime prede, un maschio di muflone ritrovato a Col del Gallo, una femmina campeggia e poi ancora un altro muflone maschio adulto all'inizio della strada penese. Alessio chiede anche l'intervento delle autorità locali.